Amedeo Rotondi. Chi era Amedeo Rotondi? Commento. Era un ricercatore spirituale che firmava i suoi libri con lo pseudonimo Amadeus Volben, che significa volontari del bene. Lo andai a trovare la prima volta nella sua libreria di via Merulana a Roma. Quando seppe dei miei interessi mi regalò due libri e mi disse l'amore per i maestri immateriali nasce dalla fiducia del seme di divinire albero. Forse per la fiducia che ebbi subito in lui curai tre libri postumi di Amedeo, che adesso me lo fanno ricordare come un maestro che è stato incarnato.